Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi parliamo dei test che ci sono stati a Misano ieri e oggi e vediamo un po' come sono andati e che novità hanno portato alle nostre Yamaha. Innanzitutto questo test è stato importante per cercare di ritrovare la retta via ed essere finalmente competitivi per giocarsela ogni domenica con gli avversari e magari, magari dico io, lottare per il titolo. Però cominciamo a giocarcela e divertirci un po' e vedere come siamo messi a confronto a Ducati e a confronto ad Honda. Innanzitutto la Yamaha migliora, abbiamo quattro moto nei primi sei, la classifica conta un po' poco però diciamo che sul Time Attack avere quattro Yamaha sui primi sei, gli altri due sono Ducati, non è male quindi sembra che andiamo veloci almeno sul Time Attack. Che cosa è stato fatto in questo test? Che novità sono arrivate? Partiamo dallo Step 2 del motore del 2020 e finalmente si sta provando un motore un attimino più evoluto di quello del 2020, uno Step 2 come ho detto prima, per stare al passo con Honda e con Ducati perché si sa che la Yamaha sul dritto viene sverniciata quindi ha qualche problema di motore per cercare di non usurare la ruota dietro. Quindi siamo sulla buona strada però c'è da migliorare. Valentino dice così, Vignale si è un po' meno soddisfatto però Valle è positivo e dice che si può fare di più e si deve fare di più. C'è un nuovo forcellone in carbonio per la ruota posteriore che è questo. Questo nuovo forcellone in carbonio dà stabilità al posteriore, piace a Valentino e si può già usare nei prossimi GP già proprio da quello di Misano quindi fra l'altro questo forcellone in carbonio per la ruota posteriore quindi per evitare che la ruota posteriore si usuri troppo viene introdotta per la prima volta in questi test per i piloti di Ivata quindi quelli di Yamaha perché prima di oggi mai nessuno di loro aveva provato un forcellone in carbonio. Come si suol dire, meglio tardi che mai. L'altra novità che è stata introdotta nei test di Misano è uno scarico evoluto con doppia uscita. Un po' è una falsa riga di quello che è montato sulle Suzuki, no? Quindi rende l'M1 più aggressiva esteticamente, quindi esteticamente è una bomba, una figata. Peccato che l'estetica conta un po' poco, no? Se si vuole arrivare davanti. Per cui cercherà di capire Valentino se dà benefici e se ne dà, verrà introdotto anche quello. Quindi beneficio è in più e anche però da vedere cosa ci vuole di più. Un'altra modifica che è stata introdotta oggi è una nuova copertura, è un profilo montato sulla ruota davanti. Questa copertura va a coprire la ruota. Si notano nella parte anteriore quattro aperture che portano aria fresca sui dischi, mentre sul posteriore c'è una presa d'aria dinamica che serve a raffreddare la pinza di freni. Quindi uno mi va a raffreddare i dischi, quell'altro mi raffredda la pinza di freni. Quindi questo serve sicuramente per raffreddare l'impianto frenante, è ovvio. Quindi mantiene bassa la temperatura di pinze e di dischi, però potrebbe anche servire per avere vantaggi aerodinamici e anche questo lo scopriremo nei prossimi GP. Questa copertura è differente da quella che usa la Ducati, perché quella che usa la Ducati serve per pulire e incanalare il flusso d'aria che arriva al cucchiaio, che in Yamaha oggi non c'è questo cucchiaio. Oltre alle novità che ho appena spiegato in questi mesi, Yamaha ha continuato a lavorare anche con l'elettronica per coniugare la potenza alla guidabilità della M1, perché sappiamo che con troppa potenza si va ad usurare la ruota dietro e ci sono i problemi che sappiamo oggi avere tutti i piloti di Yamaha. Quindi stanno lavorando anche su questo fatto dell'elettronica e portandola avanti con tutto il resto. Anche Pecco e Morbidelli hanno avuto dei buoni test, erano là davanti anche loro, si sono sentiti bene, hanno provato delle nuove cose e sembra che anche per loro la via sia quella giusta e sia in fase di crescita. Vedremo come andrà domenica a Misano, perché sul tracciato è stato fatto un trattamento che si chiama Sandblast ed è un trattamento di idrosabbiatura, quindi si prende tutto quello che è la superficie dell'asfalto e si levica. Questo serve per quando piove, per avere un miglior aderenza, un miglior grip, ma in caso di gara asciutta potrebbe essere un pochettino più compromessa. Staremo a vedere anche qua che cosa succederà nel weekend di gara. Io vi ringrazio per avermi seguito come al solito. Qua sotto qualche commento su quello che ho detto, su come vi sono sembrati i test, su dove può arrivare Yamaha, Valentino e i nostri piloti, un bel pollice verso l'alto. Iscrivetevi al canale, è molto molto importante per avere sempre le notifiche di quando arrivano delle novità e rimanere sempre aggiornati. Io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento a Misano. Io ci sarò e voi, ciao!